Il comitato di indirizzo, da me coordinato, è un organo di consultazione permanente delle parti sociali, costituito da oltre 40 aziende, studi professionali, enti e associazioni, rappresentativi a livello locale non solo nel mondo delle professioni. Ad oggi vanta la partecipazione di 56 membri esterni e di due membri interni oltre alla sottoscritta, ovvero il professor Torretta e il professor Conti. L'obiettivo del comitato è quello di recepire costantemente i suggerimenti provenienti dagli stakeholders esterni, al fine di erogare un'offerta formativa in linea con le esigenze del mercato. A tal fine organizza iniziative di carattere professionalizzante e formativo rivolte agli studenti della laurea triennale magistrale in ingegneria del nostro Ateneo. Attualmente può appreggiarsi del patrocinio permanente dell'ordine degli ingegneri della provincia di Varese, del comune di Varese e della provincia di Varese. Ad oggi il comitato è costituito da tre sottogruppi tematici, ciascuno coordinato da uno specifico referente. Due di questi ricalcano i temi caratterizzanti i due corsi di laurea, ambiente e sicurezza. Si aggiunge poi il sottogruppo comunicazione e relazione, che focalizza l'attenzione sulle soft skills, ovvero le competenze trasversali. Infine presenta un ulteriore sottogruppo da me coordinato e a cui partecipano una serie di nostri studenti e di nostri laureati, al fine di far emergere le criticità riscontrate nel percorso formativo o all'ingresso del mondo del lavoro. Di norma il comitato si riunisce in forma plenaria due volte l'anno e possono essere indette ulteriori riunioni ristrette, convocate dai referenti dei sottogruppi per ottemperare a specifiche esigenze.